Le immagini delle telecamere di sicurezza che inquadrano l'assassino mentre fugge a piedi e nella corsa si toglie il giubbotto e lo stesso giubbotto sporco di sangue ritrovato in mezzo a un cespuglio, sono gli elementi in mano ai carabinieri che, coordinati dalla procura, stanno dando la caccia a chi, nella serata di giovedì, in piazzale Falcone Borsellino, davanti al tribunale, ha ucciso Leonardo Locascio, il portiere di notte di 38 anni che era appena sceso dall'autobus e stava andando a prendere servizio all'Art Hotel Museo, in Viale della Repubblica. Un omicidio di strada, un delitto commesso da un balordo, ha ripetuto ancora oggi il procuratore Giuseppe Nicolosi, a conferma che la prima pista imboccata dagli investigatori, quella di una rapina finita male, continua ad essere la più accreditata. Locascio, secondo la ricostruzione, era appena sceso dall'autobus, il mezzo che usava per raggiungere il lavoro dalla sua casa di Via del Ferro, quando si è imbattuto nel malvivente. La vittima forse ha cercato di reagire alla rapina, scatenando in questo modo la ferocia dell'aggressore, che lo ha colpito al collo con un trincetto, forse un cacciavite, un colpo solo, fatale, che ha tagliato di netto la giugulare. Il 38enne ha avuto solo la forza di fare qualche passo, come confermano le tracce di sangue sul marciapiede, poi è crollato. L'assassino si è allontanato portando via lo zaino della vittima, abbandonato durante la fuga, dopo aver rubato il cellulare e i soldi contenuti nel portafogli. Le immagini recuperate dagli investigatori mostrano un uomo che scappa verso Viale Montegrappa. Non sono nitide, ma sono comunque qualcosa su cui lavorare. Il giubbotto intriso del sangue della vittima potrebbe invece rivelare di più sull'omicida. Le indagini vanno avanti senza sosta, i carabinieri e la procura non hanno smesso di cercare. Potremo essere sulla strada buona, l'unico commento del procuratore Nicolosi. Il riservo è strettissimo. L'autopsia sarà effettuata forse lunedì. Stamani intanto è stato lasciato un mazzo di fiori alla fermata dell'autobus dove Leonardo...